Oggi raga sono qua per farmi del male Ti ordino di stare zitto codice Cap dei negozi oggetti Ragazzi stavamo dicendo se magari Cap non mi interrompe spammando il suo codice creatore Quando in realtà sapete di tutti benissimo che dovete utilizzare il codice Zerbi No il codice Zerbi Zerbi Comunque raga tornando a noi come avete letto dal titolo Andremo a fare tutto quello che dice Cap per 24 ore Anzi a dire la verità gli diremo soltanto sì per 24 ore Quindi Cap tu sarai cattivo oppure no? No Ah non sarai cattivo perfetto No 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 vuoi anche non essere cattivo Sì sì che sono cattivo Io ti dico subito una cosa non ho V-Bucks e ti dico subito che non ho V-Bucks Ma come non hai V-Bucks? Allora c'è scritto 3000 però in realtà è buggato perché in realtà ne ho 0 Cioè 3000 No no c'è scritto 0 3000 Allora io direi già subito di iniziare dal neee Niente Da niente Da niente No N E vai Continua continua la frase Allora N E fammi vedere Non vedo niente con N io Negozio oggetti Zerby Negozio oggetti Zerby Negozio oggetti Però vedo un'altra cosa Cioè Dai sentiamo cosa 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 Pacchetto ascesa di Skywalk Oh allora Io ti giuro ho solo 3000 V-Bucks Non posso shopparne altri Hai solo 3000 V-Bucks? Sì esatto Ok allora quello lì ovviamente un po' troppo perché Perché Tutto quello che sostiene in quel pacchetto lo puoi shoppare diciamo normalmente al ritorno Shopp in teoria Ok sì Giusto a questa cosa Esatto Quindi per farti spendere ancora di più ti farò prendere skin singole No 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 al massimo una skin al massimo E quindi rega direi di iniziare Allora chiudi gli occhi Ok gli ho chiusi vai Hai chiuso gli occhi Sì Ok prendi il mouse No Gli due centimetri a sinistra Due centimetri a sinistra Io non so dove è la freccia Quindi non vedete dove No no Ok Ray 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 ok vai Allora Aspetta No 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 scherzavo In realtà è traditore No 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 era Ray Era Ray Era Ray andava benissimo Fidati che era traditore Ma che traditore che costa 300 Vabbè se vuoi shopparne anche quella poi ti trovo che Ray Vabbè dai Ti shoppo Ray Compra come un regalo Blade No 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 Aspetta un attimo Te non hai proprio proprio capito nulla Cosa cosa Vai su Ray Ok ci sono E fai acquisto oggetti In modo tale che te lo puoi ottenere nel tuo inventario Perché No Lo faccio Acquista oggetti Va bene me lo sono preso Ora E quanto hai speso 1.500 E quindi quanto ti rimane 1.500 Sì Ok Gli altri 1.500 Verdi che andremo a rispendere Non gli posso dire di no I regali soldato Sì Che a me piace veramente un botto Quindi fai comprare tu regalo Scrivi un messaggio carino E mandamelo Cosa ti devo dire Sì va bene Sì raga Devo dirgli per forza sì Allora sì va bene Mamma mia cap Sarò cattivissimo Io te lo dico Raga Per chiunque di voi non lo sappia In descrizione ci sarà il link Dal video di capo O abbiamo fatto la stessa cosa Però con i roll invertiti Che credo sia Molto più divertente Comunque No Blades Guardatelo Blades Con dice cap Dai continua Invia il regalo Te l'ho inviato Ora sei contento Io non l'ho ricevuto questo regalo Beh Mi spiace Se non aveva il messaggio carino Io sono Ancora Spero che il regalo ti piaccia È partita Sì coppie Ma c'è scritto V-Bac in alto a destra No zero c'è scritto in alto a destra Zero No 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 Un po' più a sinistra di quella cosa lì Sempre zero Zero sulla carta c'è scritto Non c'è scritto zero sulla carta Fidati di me che c'è scritto zero Dai va bene Non sono così cattivo Va bene Go vai Metti pronto Ok cap ci siamo Sei pronto No Tu puoi dirlo Io per sfortuna no Devo dire per forza sì Dove andiamo Allora Una città della vittoria In arena È Borgo Bislacco Quindi andiamo a Borgo Bislacco È una domanda No Allora ti dico Ah non è una domanda Allora vado dovevo No sì sì È una domanda Allora va bene Sì andiamo a Borgo Bislacco Va bene Sai perché ho scelto proprio Borgo Bislacco Perché Perché c'è tantissima gente Poco lutto Città piccolissima Non lutteremo una mazza Prenderemo anche pochi materiali No mi si è bloccato tutto Mamma mia T'è andata bene Mi si era bloccato tutto Comunque no In realtà siamo soli Io e te Siamo solo io e te Ah no scherzo scherzo C'è qualcuno C'è qualcuno in realtà Allora Zerbi Allora Se io ti chiedessi per caso Fammi da scudo umano No Cosa vi risponderesti Ti rispondo no No puoi rispondermi no Zerbi Mi dispiace Allora prima cosa Zerbi Apri un attimo il tuo inventario Oddio Non c'ho niente Ok ti ero aperto Ti ero aperto per dieci secondi No Giusto per No Ok ciao Zerbi Aspetta un attimo Che ti metti un bel muro qua Vai Ok Ora puoi chiudere il tuo inventario Ma io faccio così Madonna Ti giuro che è tu Adesso Vinceremo di sicuro questa partita Anche secondo me No no K Allora Comunque il tuo obiettivo E farmi vincere Perché io sono in squadra con te Ma che farmi vincere Siete questo Dieci punti D'arena Cosa vuoi vincere Che io non ho mai giocato Questa potenza Ha maggior ragione Che i dieci punti Dovrebbero essere tutti scarsissimi Eh tutti scarsissimi Già gioco con te Quindi si Hai ragione In effetti Oh 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 Zerbi Allora io ho due R Uno verde E uno bianco Ok Vuoi per caso Dare R verde Anzi Sì 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 Lo voglio Lo voglio Lo voglio In realtà non mi serve Niente Però sono obbligato Arrivo Hai per caso Qualche R nel tuo inventario Forse Forse Ok E da un po' E dirmi forse Devi dirmi sì Zerbi Dammi il tuo R Nel inventario Tieni Tieni Ma guarda che figata Che faccio la connessione Verde, blu e bianco Oh avevi detto Che mi devi il tuo però Ora dammelo Ma cos'è che hai detto Ora me lo dai Non ti sento bene Scusa Dammi il tuo Ti sarà un problema Di connessione Secondo me Perché qua non sento un avanzo Mamma mia Quanto sono cattivo Nel tuo video Non hai idea No è vero che dopo Dovevi registrare i miei video No perché non l'ho registrato prima Stai attento Capgito qui davanti a noi Vieni, vieni, vieni Vieni, vieni Vieni, vieni Vieni, vieni Vieni, vieni Con quale arma Con quale arma No con quella che ho mai dato Ecco Zerbi, zerbi 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 Restami Che pregamo Con chi sto giocando io Con chi sto giocando io Zerbi fightano Sì, sì Ok Va, va, va Cioè mi stanno prendendo un altro soldo Ma da Cap Cap Ma guardate Sventri di costruire Per cinque secondi No Uno Due Tres Quattro Cinque Ok Cap Sei il fallimento del team Sei la delusione del video Ma stai zitto che sei te che sei morto Sei la delusione del video Ok cap Ci siamo Seconda partita Dimmi un po' dove vogliamo andare L'acqua 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 Sì, va bene Sì, sì Va bene L'acqua 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 Cap Ti dico Cioè mi stai facendo cose troppo cattive E lo shop E la skin E farmi morire apposta Zerbi Zerbi Dimmi Dimmi Sei zitto Sì Che brutta La sfida più brutta che io potessi fare L'ho scelta oggi La più brutta di tutte Quella dove devo dirti solo sì Darmi a vedere la mia casa Eh Dov'è la tua casa? Tutte le armi di rarità maggiore A qualsiasi Lasciami Questa cosa non ti posso dire sì Com'era puoi dirmi sì Facciamo così Dai mi do un bonus Posso dirti dei no Va bene? Ma state Ok Non puoi dir no Sì Ah 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 Dermi Perché non sei tratto della mia casa? Non stai rispettando la sfida eh? Sì 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 Eh Stai pregando solo Sì Oh facciamo il contrario al volo Dai fai tutto quello che ti dico io Oh Intanto ho fatto da Kire C'è il contrario di quello che hai fatto Vai vai Facciamo il contrario Adesso faccio Fai tu Tutto quello che voglio io Ma se questo qui lo vedranno nel mio video Eh Però adesso visto che io sono morto Non sappiamo cosa fare Che dici? Darmi Darmi Sparano Darmi Darmi Vediamo ora cosa fai Vediamo ora Che velocità di Di copertura Sì Non farmi ridere che non mi ricordo Dove erano gli cilini Vorrei capire come fai ad essere così veloce Non me ne devi far ridere Oh no No materiali Via 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 Stai giocando con l'occhio bendato Stai zitto Stai giocando con una mano sola Ah ah Quando stanno scarse le persone Tu zia Tu zia Tu zia Tu zia Tu zia Tu sorella Ma che cipere Cipere Morto da 3 2 1 Complimenti Kapp 10 Grazie 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 Abbandona Mi sono piaciute tanto queste partite Anche a me Ma sai perché sono state così belle Sai perché Eh Perché ho giocato io E infatti Per questo sono state così belle Ah comunque Sono salito di punti Eh ammazza Quanto è via 1 Adesso sei a 2 Allora sono 11 Allora scusa Allora scusa Quindi raga spero che questo video vi sia piaciuto Mi raccomando c'è i link No Codice zarbi all'interno dello shop di Fortnite Codice zarbi Comunque raga ci sarà in descrizione il link del video di Kapp Quindi abbiamo fatto le stesse cose invertite Quindi lui diceva soltanto si e me E lì si che ci divertiremo Quindi mi raccomando raga Passate anche da lui Questa partita In realtà fatelo Ovviamente ci sarà in descrizione anche il mio Instagram Quindi andatemi tutti sicuri Visto che siamo a 50.000 follower In teoria tra due giorni Si chiama CaptainMenderOfficial No si chiama Trattino Basso Zerbi a condividi Trattino Basso Eh si Uscirà un post in cui vi faccio dei regali veramente fantastici Avrà appunto 50.000 follower Quindi mi raccomando non perdetevelo E niente ragazzi Detto questo noi ci vediamo al prossimo video Ciao ragazzi Ciao Tosco Ciao 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 Ciao